C'erano diverse, sono passato da Reggio e si era sciolto il comune per mafia, però abbiamo fatto una cosa in cui non credeva nessuno, tantomeno uno come me di 65 anni, Grassellotto, che poteva starsene a casa sua, visto che mi avete fatto vivere benissimo per 40 anni. Sono uscito, ho visto i miei figli due che sono andati dall'Italia, ho detto sto in casa.